Quante volte ci siamo chiesti, ma questi prodotti saranno veramente bio e il chilometro zero che cos'è? Ma non solo chilometro zero, prodotti genuini che arrivano direttamente dal produttore al consumatore. E allora? Allora siamo andati alla fonte, come si dice, perché volevamo saperne di più. E proprio qui a Fondotoce è nato il punto 2 della fonte che da Prato-Selsia è arrivata nel BCO. E' una sfida. A Prato-Selsia siamo ormai da sei anni, eravamo partiti quando abbiamo fatto la cooperativa in 7-8. Abbiamo fatto la cooperativa e adesso siamo oltre 31-32, ogni giorno si aggiunge qualche socio. Da dove arrivano tutti questi prodotti? Allora, il Piemonte, perché era nato come Valsesia, ma la Valsesia noi portiamo i formaggi perché non è che abbiamo altro tipo di agricoltura. Quindi, Piemonte, carne della zona di Cuneo, tutta piemontese, dalla cooperativa Compral, scottona, ottima. E i salumi sempre nella zona del Novarese con l'agricola Valsesia. Poi abbiamo la frutta, la verdura che viene un po' dal torinese, dal cuneese, nelle zone vocate del Piemonte. Poi ovviamente qualcosa fuori regione. Abbiamo la Val d'Aosta che è una nostra socia per le mele, per i succhi e quindi, diciamo, tutto aziende agricole. Ecco, naturalmente non mancheranno i prodotti del Verbano Cusiosso. Esattamente. Adesso, trasferendoci qui, li avevamo anche là perché abbiamo la latteria di Crodo. Ovviamente ci sono dei prodotti che non possiamo produrre qui, ma li andiamo a prendere dove si producono direttamente dal produttore. Non ci sono intermediari.